Musica Produzione di acciaio Italia in lieve rallentamento a settembre dopo 15 mesi consecutivi con il segno più meno 0,9% con 2,2 milioni di tonnellate Secondo Federa Acciai permane la crescita produttiva nei primi 9 mesi dell'anno più 2,9% con circa 18 milioni di tonnellate Anche nel resto del mondo lavoro a pieno ritmo per le acciaierie Ancora in crescita doppia cifra l'import italiano di materie prime semi lavorati e prodotti siderurgici più 10,7% tra gennaio e luglio Le elaborazioni Siderweb e di dati istate dicono di una crescita anche delle esportazioni che però non riescono a tenere il ritmo dell'import Prezzi ancora cali generalizzati sul mercato nazionale Secondo la rilevazione dell'ufficio studi Siderweb diffuse le riduzioni di quotazione nel comparto dei piani sia il carbonio che inox tra i lunghi in leggero aumento vergella per rete e rete elettrosaldata Solo una settimana la decima edizione di bilanci d'acciaio il 6 novembre a Brescia nella sede di Udibanca la presentazione dell'analisi dei risultati di bilancio di oltre 4.000 aziende della filiera siderurgica nazionale e di grandi gruppi internazionali il presidente di Siderweb Emanuele Morandi un momento imperdibile per chi ama l'acciaio Buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale di Siderweb in primo piano questa settimana c'è la produzione siderurgica nazionale e mondiale secondo Federacciai a settembre per la prima volta dopo 15 mesi l'Italia ha lievemente rallentato per quel che riguarda l'output siderurgico il dato cumulativo dei primi nove mesi dell'anno resta comunque positivo così come è positivo anche quello della produzione mondiale Sentiamo Dopo 15 mesi consecutivi con il segno più a settembre la produzione italiana di acciaio ha registrato un lieve rallentamento secondo i numeri di Federacciai l'output del nono mese dell'anno è stato di 2,17 milioni di tonnellate in diminuzione dello 0,9% rispetto allo stesso mese del 2017 se si guarda il periodo gennaio-settembre però la variazione torna a essere positiva le acciaierie italiane hanno sfornato 18,31 milioni di tonnellate il 2,9% in più su base annua in dettaglio ad agosto, ultimo dato disponibile la produzione di lunghi è aumentata del 21,1% arrivando a 8,10 milioni di tonnellate hanno mantenuto il segno meno invece i piani fermi a 653 mila tonnellate meno 2,5% tendenziale il calo è meno sensibile meno 0,5% se si guarda all'intervallo gennaio-agosto l'output di piani è stato in totale di 7,41 milioni di tonnellate anche nel resto del mondo le acciaierie continuano a lavorare a pieno ritmo a settembre si sono prodotti 151,7 milioni di tonnellate di acciaio più 4,4% tra gennaio e settembre la crescita su base annua è stata ancora maggiore più 5% con volumi pari a 1,3 miliardi di tonnellate l'accelerazione più forte è stata quella dell'Iran nei primi nove mesi dell'anno ha prodotto 18,5 milioni di tonnellate più 20% con tassi compresi tra il 5 ed il 10% ci sono invece la Cina e l'India sono cresciuti con una velocità inferiore gli Stati Uniti la Germania, il Brasile, la Corea del Sud e la Russia hanno avuto un ritmo inferiore all'1% infine la Turchia e il Giappone una crescita di quasi l'11% tra gennaio e luglio è quella fatta a registrare dalle importazioni in Italia di prodotti siderurgici, materie prime e semilavorati è quanto emerge dalle elaborazioni Siderweb di dati Istat i dettagli è una crescita che si sta mantenendo a doppia cifra quella delle importazioni in Italia di materie prime, semilavorati e prodotti siderurgici tra gennaio e luglio, ultimo dato disponibile gli arrivi sono saliti a oltre 18,2 milioni di tonnellate con un aumento del 10,7% rispetto allo stesso periodo del 2017 secondo i dati Istat elaborati dall'Ufficio Studi Siderweb sono in crescita anche le esportazioni che però non riescono a tenere il ritmo dell'import i flussi verso l'estero sono stati pari tra gennaio e luglio a 11,5 milioni di tonnellate con un progresso del 4,4% rispetto all'anno precedente quanto all'import risultano in crescita a doppia cifra tutte le categorie di prodotti analizzati fanno eccezione solo i piani saliti dell'1,9% con 2,1 milioni di tonnellate nelle altre categorie il maggiore dinamismo è stato delle materie prime più 22% con 5,6 milioni di tonnellate è calato l'export dei piani del 2,2% con 4,3 milioni di tonnellate in uscita la variazione positiva più marcata è quella dei semilavorati gli arrivi sono aumentati del 16,3% con 854 mila tonnellate ed ora parliamo di prezzi di materie prime prodotti siderurgici sul mercato nazionale secondo le ultime rilevazioni dell'ufficio studi Siderweb si sta registrando una tendenza generale a riduzioni delle quotazioni per tutti i prodotti inox compreso sentiamo prosegue il calo del prezzo dell'acciaio nel mercato italiano la conferma è arrivata dall'ultima rilevazione effettuata da Siderweb che ha fatto registrare una diffusa riduzione delle quotazioni analizzando l'andamento del Siderindex che sintetizza il costo dei prodotti lunghi e piani in acciaio al carbonio in Italia si può vedere che nell'ultimo semestre il mercato è stato testimone di due trend tra giugno e fine agosto il valore è cresciuto del 7,8% tornando vicino ai massimi raggiunti a marzo del 2018 che erano i massimi degli ultimi sei anni dalla ripresa dopo le ferie estive invece il trend è mutato radicalmente negli ultimi due mesi il prezzo del Siderindex è sceso da 452 euro la tonnellata a poco meno di 430 euro la tonnellata con una riduzione del 5,3% tornando ai livelli di fine giugno non solo i prodotti in acciaio al carbonio stanno soffrendo anche l'acciaio inox sta perdendo terreno le lamiere a freddo in Aisi 304 dopo circa tre mesi di stabilità tra giugno e agosto nell'ultimo bimestre hanno intrapreso una china discendente che è costata sinora 150 euro la tonnellata una riduzione che pur con valori diversi è comune a tutti i prodotti inox rilevati da Siderweb Manca ormai solo una settimana alla decima edizione di bilanci d'acciaio il 6 novembre a Brescia nella sede di Ubibanca verrà presentato lo studio Siderweb che analizza circa 4.000 bilanci di imprese della filiera siderurgica in chiave strategica e prospettica sarà un'occasione anche per scorgere quali sono le prospettive di mercato a breve e medio termine perché è importante non mancare lo spiega nel video editoriale il presidente di Siderweb Emanuele Morandi voglio ricordarvi di mettere in agenda un importante appuntamento importante almeno per chi come noi crede nell'acciaio e ama l'acciaio martedì 6 novembre a partire dalle ore 15 presso la sala conferenza di Ubibanca a Brescia si terrà la decima edizione di bilanci d'acciaio un impegno non indifferente per tutta la nostra struttura che da settimane sta analizzando in chiave strategica i bilanci di oltre 4.000 aziende di tutta la filiera siderurgica settore acciaio nel quale sta continuando un processo di concentrazione che analizzeremo con i nostri partner di Price Waterhouse Cooper che si sono focalizzati proprio sui processi di natura straordinaria avvenuti nel settore in Italia e a livello internazionale dal 2015 al 2018 vi segnalo inoltre la interessante tavola rotonda che vedrà la partecipazione di importanti attori del nostro settore quali Mario Caldonazzo, Marco Monometti, Marco Mandelli e Tommaso Sandrini che precederà l'assegnazione degli ambiti riconoscimenti che premieranno i migliori bilanci della imprese della filiera ecco vi aspetto quella di Brescia è soltanto la prima delle diverse tappe che bilanci d'acciaio farà anche quest'anno sul territorio nazionale l'appuntamento seguente sarà il 15 novembre a Lecco dove verrà fatto il punto sul comparto della trafilatura e in seguito il 22 novembre a Napoli dove invece verranno analizzati i risultati e le prospettive del comparto dell'acciaio del centro-sud per tutti i dettagli e le iscrizioni è possibile consultare l'area eventi di www.siderweb.com con questo è davvero tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci Grazie a tutti